musica Allora, ladies and gentlemen, signore e signori, 300 volte grazie per gli iscritti al mio canale YouTube, 300 volte grazie, grazie veramente tante, ecco, ci tenevo a ringraziare tutti gli iscritti su YouTube, ringrazio anche chi mi segue ovviamente su Facebook, comunque adesso vi racconto quello che mi è accaduto in questi giorni, allora ricevo un messaggio domenica alle 1 e mezza su WhatsApp, era lui, era lui, era lui, il principe Carlo di Inghilterra che mi diceva che aveva un grosso problema a Buckingham Palace e che doveva correre subito là, allora a un certo punto, erano alle 1 e mezza, mancava un'ora all'inizio della partita legnale, ho detto vabbè, mi teletrasporto, c'è campo non è, 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 lui, Carlo d'Inghilterra, e mi dice, good morning Sir Sergio Vignati, e io, uè, carletto, come va, come va, e mi fa, purtroppo non andare mica tanto bene, la misera, cos'è successo, io e Camilla, sei mesi che non avere rapporti sessuali, carletto, non è colpa mia, c'è la pellolena azzurra, così che si chiama Veara, le risolvi tutti i problemi, ma tu non avrei capito niente, non avrei proprio capito niente, vabbè, raccontami, purtroppo vecchia babbione porta Camilla Packerball a vedere il torneo di bocce intercontinentale a Bocciodromo, e io 15 ore stare via, tutti i giorni, e Camilla Packerball quando rientra a essere stanca, e ha detto niente, 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 ma proprio niente, 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 zero, perché lei essere stanca, lei essere stanca, allora, gli ha detto, caro carletto, gli piacciono tanto questi tornei di, come si chiama, di bocce, bene, la parto io vedeva un altro torneo interessante, C'è il campo, l'ole, 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 c Sì, Sergio Vignati, lei aveva risolto grave problema, tu aveva risolto veramente grave problema, grazie, mi ha fatto così, ad esatto punto mi ha spaventato, grazie di cuore, veramente grazie, grazie tante. Ho detto, prego Sir Carlo Principe d'Inghilterra, e lui mi dice, ma lei aveva una curiosità, ma la vecchia babbiona dove essere andata in questo momento? E' detto, perché babbiona, essere in Australia, a vedere, torneo internazionale di salto con l'asta dei canguri, evviva rompiballe show, evviva, e forza legnano, 3 a 1 contro il Virtus Bolzano, forza lì, la ole ole, 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 ciao a tutti, ciao, ciao.